E quindi adesso arriveranno per loro due polche consecutive, una dopo l'altra. La prima è tratta dalla nostra ventiduesima raccolta e la vogliamo dedicare alla nostra amica Deborah, ad una ballerina eccezionale che stasera è qui con il suo terzo figlio arrivato. Il titolo è proprio giusto per lei. Naturalmente la dedica la facciamo anche al suo marito, a Tiziano. Tizzi, ok! Ok! E quindi alla Deborah andiamo con Pimpante! Questo brano fu inciso nel 1933 con il nome di Fitini. Molto probabilmente era un soprannome di un ballerino, magari proprio anche di questa zona, visto che il maestro è il secondo casadero di questa zona. E poi noi l'abbiamo rinciso perché non era la Siae con il nome di Pimpante! La Siae con la Siae con la Siae con il nome di Pimpante! La Siae con la Siae con il nome di Pimpante! La Siae con la Siae con il nome di Pimpante! 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 Pimpante! La Siae con il nome di Pimpante! La Siae con il nome di Pimpante! La Siae con il nome di Pimpante!